La città sembra silente, non si accorge di nulla, protesta sempre meno, però il risultato del referendum deve farci riflettere. C'è stato un voto che ha superato la media nazionale ed è un giudizio nei confronti delle amministrazioni locali, sia quella regionale che quella ovviamente catanese. La gente è arrabbiata, questo va in qualche modo non giudicato come è stato fatto da molti, ma va considerato un'inversione di tendenza, un cambio di lotta. Io non so se in questo anno e mezzo le cose non fatte possono essere recuperate in un anno in cui ci sono solo elezioni e campagne elettorali, in cui una intera classe dirigente rischia di essere cancellata. Però mi spiacerebbe che si portasse a casa alla fine di questa consigliatura veramente un cambio di lotta che guardasse lo sviluppo nell'interesse della città e un po' meno i protagonismi personali. Io ho votato contro il nuovo piano di riequilibrio presentato il 29 settembre per una serie di motivazioni, perché secondo me prevedeva degli obiettivi non raggiungibili, perché si prevedevano dismissioni nelle nazioni maggiori entrate, cose che secondo me erano, secondo lo storico, non restavano in piena, addirittura si prevedevano anche degli utili da parte delle partecipate quando solo nell'ultimo anno hanno avuto nel 2015 10 milioni di Euro di perdite le nostre partecipate. Non votando il piano di riequilibrio è evidente che tutti i documenti conseguenziali che devono stare dentro, rispettare quel piano di riequilibrio per coerenza non vanno votati, perché è evidente che dovendosi queste, compreso il prossimo bilancio dovrà tenersi al rispetto degli anni del 2016 degli obiettivi previsti in quel piano. Quindi diciamo mai è logica è logica o conseguenze. Alcune cose mi danno pure ragione, sono previste per esempio delle entrate per soddisfare l'uomo nell'attuale bilancio, sono previste delle vendite che devono soddisfare le esigenze viste nel piano di riequilibrio che ovviamente ad oggi che nei fatti siamo in un preconsultivo non sono stati rispettati. Allora adesso presenteranno un emendamento ma è bene vederlo, è bene ragionarlo. Il tentativo è quello di, a mio avviso, quello di mettere tanta fretta perché questo cerino passi velocemente nelle mani di altri. È un po' un gioco che secondo me può essere rischioso e certamente rischioso per la città. È chiaro che quando si ha conoscenza che un documento non è congruo si rischia, è un reato, il reato di aver avvallato un falso bilancio. Ma il tema vero non sono solo le responsabilità che attengono i singoli consiglieri ma è la responsabilità che da questo tipo di scelte ne ricade sui 300 mila abitanti cittadini della città perché se queste scelte sbagliate è chiaro che portano poi a situazioni traumatiche nella città. La città vive già una situazione di crisi profonda, sarebbero ovviamente aggravate da documenti che non rispondono alla realtà. Si lavora per evitare il dissesto, io sono sempre stato contrario al dissesto. Sono contrario se c'è un piano serio che ovviamente è pesante da portare avanti per uscire da questa situazione di crisi perché la città ce la può fare, il comune ha delle risorse importanti, però nel momento in cui non ci si rende conto che la possibilità di evitare il dissesto non esiste, nel senso che c'è solo spostamento un anno dopo l'altro di problematiche che via via si accumulano, nel frattempo il patrimonio che valeva X domani depauperato e mai mantenuto ovviamente perde ancora di valore. Noi non abbiamo neanche la possibilità di risorgere, di ricominciare. La città è in stato di sofferenza ormai da tanti anni, da una decina d'anni. Il piano non stanca nemmi, l'attività stanchere è stata un'attività molto dura, molto rigida. io credo che la situazione rispetto ai 5 anni precedenti è peggiorata, la crisi è peggiorata e non vediamo via d'uscita, cioè noi non vediamo un cantiere aperto a Catania che è quello che consentirebbe di portare lavoro e quindi consente anche di pagare le tasse. Abbiamo un'evasione e un'illusione che rasenta il 50% dei nostri cittadini e non sempre è colpevole, spesso è anche incolpevole perché chi perde il posto di lavoro ovviamente non è nelle condizioni di pagare le tasse. Abbiamo una situazione strutturale del nostro patrimonio, lo dicevo poco fa, che è assolutamente ormai difficile da recuperare sul piano anche strutturale. Ha un valore sul mercato, è un momento difficile, con questa ancora inferiore l'abbiamo visto sul Palazzo Bernini, 2 milioni e 200 mila euro a fronte di 7 milioni e 9 iscritto in bilancio. Allora, io credo che siamo in una fase in cui la politica deve cominciare a parlare il linguaggio della verità, parlare il linguaggio della verità ovviamente non fa consensi, però instaura un rapporto, ricuce un rapporto di lealtà nei confronti del corpo elettorale, dei cittadini che diventa fondamentale. Dire che le cose vanno bene e poi è tutta un'altra storia, io credo che sia, non credo che sia molto onesto. Il sindaco ha i numeri per fare molto bene la città e invece si è un po' chiusa in se stesso, si è dedicata molto di più a delle passerelle che servono alcune se poi c'è la sostanza dietro. Come se Catania fosse diventata in qualche modo un palcoscenico, un teatro nel quale il protagonista è chi ha vinto l'elezione e non la città. La seconda è che a fronte di queste grandi relazioni di cui il sindaco dispone non c'è un cantiere aperto, non c'è anche un BRT, anche il corso stesso corso martiri, non si è più parlato del piano parcheggi e poi alcuni di questi possono essere salmati e immaginati, non si è parlato di piano, non si parla più di piano regolatore, immaginando un piano regolatore non una cosa espansiva, ma una cosa che recupera in qualche modo l'esistente e anche riducendo parte di cemento nella città in cui la popolazione negli ultimi 30 anni è diminuita di 80 mila abitanti. C'è un immaginare la città, qui non si immagina una città, qui si sta, questo è quello che io rinfaccio sempre, quello che si sta provando a tirare a campare utilizzando questo parcoscenico per farsi notare e preparandosi a una nuova avventura e io credo che questo la città non lo meriti.